Giuda e Scariota, ostacolo in sospensione, si tratta di impugnare una sbarra facendola scorrere su dei binari fino al raggiungimento della campana. Per poter concludere l'ostacolo è fondamentale utilizzare l'oscillazione del corpo per permettere al corpo stesso di alleggerirsi in modo da poter avanzare. Per poter avanzare in maniera fluida è fondamentale, oltre a utilizzare l'oscillazione, riuscire a dare un piccolo colpo di bacino affinché il corpo sia già proiettato in avanti. A quel punto è sufficiente spingere l'asta verso l'alto e mi troverò esattamente nel punto in cui voglio arrivare. Un piccolo suggerimento nel caso si affronti una gara bagnata, la presa può essere frontale o per evitare che l'asta giri su se stessa, una inversa all'altra. Кonfinito